Oggi parliamo di capitalismo di rapina. Cos'è il capitalismo di rapina? È quando delle persone fanno debiti, si arricchiscono, sottraendo le risorse alla nazione e ai risparmiatori con l'inganno. Questo libro parla di una decina di anni, più o meno alla fine degli anni 90 fino al 2007. Ogni epoca del capitalismo di rapina italiano ha conosciuto delle persone che si sono arricchiti illicitamente con dei razziri o che hanno fatto di grandi crack con i soldi degli altri, da Sindona a Calvi, dalle banche venete ad altre cose. Questo parla principalmente della nuova razza predona degli anni, fino agli anni 90, come detto, anni 2000. Cragniotti, Tanzi, Cragniotti, Tanzi, Fiorani e tanti altri. Queste persone avevano rapporti trasversali, avevano rapporti sia con la sinistra che con la destra, anche se dicevano magari di stare al centro. Ci sono i ricuzzi, ci sono i coppola, ci sono gli ignutti, poi ancor chi altro. Ci sono tanti casi in questo libro. Partendo dalla Banca Popolare di Lodi. La Banca Popolare di Lodi era un piccolo istituto che sul finire degli anni 90 si ingrandì parecchio, diventando fino alla decima banca italiana. Tentò di conquistare Anton Veneta e c'era un altro acquirente che voleva Anton Veneta. Erano quelli di ABN AMBRO, una banca olandese, che i soldi ce li aveva. La Banca Popolare di Lodi invece doveva ritoccare i conti, la contabilità per dimostrare di essere sana, cosa che non era. Oggi diciamo una cosa. All'epoca Berlusconi fece delle leggi sulla prescrizione veloce e altre che gli consentivano di sfuggire lui stesso ai assalti dei giudici che volevano condannarlo per varie operazioni finanziarie poco console, poco conosciute, poco studiate forse, ma certo molto dubbie come legittimità. Berlusconi proteste se stesso con queste leggi e proteste molti di queste persone. Queste persone grazie alla prescrizione breve in molti casi l'hanno sfangata, grazie alla depenalizzazione del farsi bilancio in molti casi l'hanno sfangata e così via. Queste persone si sono arricchite truffando le società di cui erano dirigenti per intendersi. Continuava a far fallire le sue società e a crearne di nuove che risultavano inutili e così poter fare le sue varie operazioni. Ricuzzi ha tentato di conquistare il Corriere della Sera con i soldi delle banche di cui era debitore e anche fallendo questi debiti sono rimasti le banche perché i suoi beni immobiliari in realtà erano tutti in garanzia alle banche che avevano concesso il prestito per acquisirli e che a volte li subaffittavano a prezzi maggiorati o le riacquistavano a prezzi maggiorati. Lo stesso dicasi nei casi Tanzi o Cragnotti. Cragnotti in fondo viene da un'ottima scuola di trucco del bilancio cioè la scuola Ferruzzi, la scuola Montedison Ferruzzi. Cragnotti si mette da solo, acquista la Polenghi da Feder Consorzi, Feder Consorzi, ve la ricordate, anni Ottanta, fallita, piena di debiti, un carrozzone. I commissari vendono a Cragnotti la Polenghi a 27 miliardi di lire. Due anni dopo lui compra la Cirio e vende la Polenghi alla Cirio, c'era una sua società ne acquisita con soldi che non aveva. I soldi gli arrivano dalla Cirio che la compra a un prezzo decuplicato. In due anni quindi la Polenghi dovrebbe aver decuplicato il fatturato, i ricavi e vi dicendo cosa difficile ovvero impossibile. Non è successo nulla del genere. Avevano fatto un regalo a Cragnotti vendendogliela a poco e Cragnotti si è fatto un regalo rivendendola alla Cirio, di cui non era l'unico azionista, a prezzo maggiorato e quindi è così. E questo ci porta anche a una situazione che qui non viene spiegata. Quella delle privatizzazioni degli anni 90 che prima o poi dobbiamo discutere perché in molti casi si trattano di grandi regali da parte dello Stato a degli imprenditori privati e via dicendo anche sia italiani che stranieri. E noi ci fidiamo di prodi, cheraliri e roba del genere. Però certe cose si spiegano stranamente perché la Cirio era insieme alla Bertolli. L'olio Bertolli era una città sana con molti ricavi. Per trovare soldi per comprare la Polenghi a dieci volte il prezzo reale, la Cirio vende la Bertolli degli americani. Mentre c'era spiegato da altri che le privatizzazioni erano a favore degli italiani e non per vendere marchi storici agli stranieri. E questo, non vendere marchi storici agli stranieri, aveva portato a vendere alla Cirio un gruppo, prima di Cragnotti, italiano senza soldi. Cragnotti esercita un'opzione sulla Cirio, non ha soldi neanche lui, però si veda la mossa del cavallo. Il peggiore di tutti in questa storia sembra però Fiorani, perché Fiorani fa proprio delle porcherie, insieme a Agnutti che è il famoso rider bresciano, che tutti conosciamo, insieme a Collanino e via dicendo. Società che nel giro di pochi mesi se duplicano il valore, però chi entra subito e lo sa prima che ci sarà un'opa ostile o un'opa non ostile, investe a 1000 lire e magari poi esce a 7000 lire ad azione quando si tratterà di formalizzare l'acquisto. Nucchi di persone faranno soldi così. E i soldi molto spesso arrivano stando a questo libro dalla Banca Popolare di Lodi, la quale fa questi prestiti magari anche a tassi rasentino zero o senza garanzie. Quindi sono operazioni sicure fatte a costo zero con i soldi dei risparmiatori delle banche che poi verranno truffati. Questo è capitalismo di rapina. Purtroppo molti riusciranno a salvarsi grazie alle leggi Berlusconi, ma ricordiamolo che avevano amicizie trasversali. Quindi c'è chi era più amico con Berlusconi o con qualcuno del suo entourage, magari Fiorani era vicinissimo ai leghisti, era vicinissimo a Fremonti e via dicendo, e chi ha D'Alema, Berlusconi e Company, Prodi. Cosa c'è da dire di altro? C'è da dire che poi ci sono gli intrecci malevoli. Il figlio della Consob che deve indagare sull'azione di Banca Popolare di Lodi su Anton Veneta, per esempio, lavorava per la Banca Popolare di Lodi, Tremonti. Tremonti faceva affari con Gnutti e via dicendo, Fiorani, tramite lo studio di cui era vecchio responsabile che lui ha lasciato in teoria quando è diventato ministro, ma che continuava nell'opera di consulenza e via dicendo. Un altro studio, magari c'era un controllo e il controllore ti suggeriva a che studio affidarti per poi non fare niente e via dicendo. Ci sono controlli che sono settoriali, si scopre nel marzo, si dice, bisogna controllare ancora perché è poco chiaro e poi non succede nulla. Tutte queste cose sono orribili e sono cose che sono successe in Italia. In Italia, quando negli altri paesi si è deciso di andare duri con le leggi su queste cose in seguito agli scandali error e via dicendo, si è optato per l'opposto. Visto che il mercato è piccolo, è meglio non mettere troppe regole, si era detto. Visto che il mercato è piccolo, metti le regole e così arrivano gli stranieri che si fidano del tuo mercato e investono. Perché gli italiani investono già in Italia, se vogliono, quelli che hanno pochi soldi. Quelli che hanno tanti soldi sono come questi, che hanno le società all'estero e fanno gli affari facendo insider trading all'interno della loro cerchia. Io ho un'informazione a te, tu mi dai un'informazione come me, ti faccio dei regali e via dicendo. Queste cose sono successe e succedono ancora. Noi non le sappiamo, perché ormai ci si fa molto meno ricerca di inchiesta, ma quando scoppiano gli scandali si fanno a ritroso queste inchieste. Sarebbe meglio farle prima, perché se le fai prima, almeno saldi qualcuno da brutte cose. Negli Stati Uniti queste leggi non sarebbero state applicate e queste persone avrebbero fatto 30 anni in carcere, come ci sono stati degli esempi. Perché nel sistema americano, se una società fallisce, non è che il sistema viene a salvarti. Banca di dodi stava fallendo e sono arrivati a salvarla. No. Il sistema fallisce e tutti gli asset delle società vengono vendute per soddisfare i creditori. Una volta che i creditori sono soddisfatti non rimane nulla, molto spesso. Molte volte non sono soddisfatti del tutto. I dipendenti, per esempio, in genere ricevono la loro pensione da fondi pensione di un'azienda, tipo quella di Enron, di cui fa il caso lì. Se Enron fallisce e i dipendenti hanno il fondo pensione che ha investito solo in Enron perché si fidava della società e perché di fatto era una simbiosi, chiaramente la pensione non esiste più. Se tu fallisci, tu non hai la disoccupazione, cosa succede? Ti devi trovare un altro posto. Ma mentre ti cerchi un altro posto, devi ancora pagare le rate dell'affitto, le rate della macchina, le rate per la copertura sanitaria e via dicendo. Quando non ci sono più soldi, sei nella strada e nessuno ti salva. Zugienza. Certificata